Amen, gloria a Dio. Accomodatevi pure e ora vogliamo rivolgerci alla parola del Signore. Gloria a Dio. Gloria al Signore. Voglio leggere insieme a voi un brano della parola di Dio molto conosciuto, è Vangelo di Matteo, capitolo 11, versetto 25. Vangelo di Matteo, capitolo 11, versetto 25. Gloria a Gesù. In quel tempo Gesù prese a dire, io ti rendo lode, oh Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio e nessuno conosce il Figlio se non il Padre e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. E poi aggiungo i versetti anche da 28 a 30, che non sono nella slide. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su voi il mio gioco e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore e voi troverete riposo per le anime vostre, poiché il mio gioco è dolce e il mio carico è leggero. Gloria al nome del Signore. Quante volte queste parole di Gesù ci hanno incoraggiato, quante volte ci hanno risollevato. Ebbene, queste parole non tramontano mai e oggi Gesù continua a rivolgerle a ciascuno di noi. La parola di Dio è una parola eterna, è una parola per ogni tempo, è una parola che arriva sempre al momento giusto. Gesù promette il suo benedetto riposo. Ma alla luce dei versetti che abbiamo letto, questo invito di Gesù al riposo ci aiuta a comprendere in che modo Gesù dà riposo a ognuno che è disposto ad andare a lui. Prima di tutto il riposo di Gesù è dato dalla rivelazione del Padre. Gesù, in altre parole, ci rivela che non siamo soli, che non siamo orfani, che abbiamo un Padre che si prende cura di noi. Gesù esclamò, il Vangelo di Luca dice così questo passo. In quella stessa ora Gesù, mossa dallo Spirito Santo, esultò e disse «Io ti rendo lodeo, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti, agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo». E rivegendosi ai discepoli disse loro privatamente «Beati gli occhi che vedono quello che voi vedete, perché vi dico che molti profeti e re hanno desiderato vedere quello che voi vedete e non l'hanno visto, e udite quello che voi udite e non l'hanno udito». «In quella stessa ora Gesù, mosso dallo Spirito Santo, esultò». Esultò. Esultare sappiamo che vuol dire, vero? Quando vediamo, in questo periodo magari un po' di meno, ma persone che fanno il tifo, che appunto esultano per una certa squadra, perché magari una certa squadra ha vinto, vince o ha fatto un gol, gridano. Gesù esultò, gridò, dicendo «Io ti rendo lode, oh Padre, Signore del cielo e della terra, così di aver fatto Gesù». Perché hai nascosto queste cose ai sabienti e agli intelligenti e hai rivelato ai piccoli, o come dice un'altra traduzione, ai piccoli fanciulli. Il riposo che Gesù ci dà viene dal fatto che Lui ci rivela il Padre. Ah, e lo rivela ai piccoli, ai piccoli fanciulli. Intanto, prima di tutto, si può conoscere il Padre solo ed esclusivamente per mezzo della rivelazione di Cristo per lo Spirito Santo. Ecco perché, dice, hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti, a coloro che pensano di poter conoscere tutto con la loro sapienza, con la loro intelligenza. Queste cose rimangono nascoste, mentre invece vengono rivelate ai piccoli fanciulli. Perché? Perché i piccoli, i fanciulli, sono quelli che dipendono in modo assoluto da chi ha cura di loro, di chi prende cura di loro. Il bambino piccolo ha assolutamente bisogno dell'adulto, del genitore, del papà, della mamma. Ne ha assolutamente bisogno. Vediamo intorno a noi tanta gente, usciamo, vediamo gente che cammina, no? Ma immaginiamo di vedere un bambino di due, tre anni camminare da solo. Si bloccherebbe tutto, si creerebbe il panico. Che ci fa questo bambino da solo? Come fa a stare da solo? Vrebbe chiamata la polizia, si creerebbe una grande allerta. Perché? Perché un bambino piccolo non può stare da solo, non può badare a se stesso. E allora Gesù glorifica il Padre, esulta, loda il Padre perché ha nascosto queste cose ai saggi, agli intelligenti, ma le ha rivelate ai piccoli. Perché? Perché le ha rivelate a coloro che hanno bisogno di Lui. Il Signore rivela se stesso a noi, Gesù ci rivela il Padre perché noi ne abbiamo bisogno. E ce lo rivela nella misura in cui noi ci rendiamo conto di averne bisogno. Coloro che pensano di poter badare a se stessi, coloro che si sentono grandi, adulti, non potranno conoscere il Padre, mentre lo possono conoscere i piccoli fanciulli. Gloria al Signore. Coloro che altrove Gesù definisce i poveri in spirito. Perché sono loro che vedranno Dio, sono coloro che hanno accesso al Regno di Dio. Infatti Gesù dice ancora qualche altra cosa in Matteo, capitolo 18, versetto 3. Dice, in verità vi dico, se non cambiate e non diventate come i bambini, voi non entrerete nel Regno dei Cieli. E il Salmo 131, versetto 2, dice, e qui l'ho citato nella versione riveduta da Luzzi, in verità ho calmata e quietata l'anima mia come quieto il bimbo divezzato sul seno di sua madre. Qual è il bimbo divezzato tale è in me l'anima mia. Che bella questa figura del bimbo che sta in un stato di completa serenità, di rilassatezza perché sta sul seno di sua madre. Fratelli, sorelle, Gesù ci dice venite a me voi tutti che siete affaticati, oppressi, e io vi darò riposo perché Gesù è venuto per rivelarci il Padre. E in questo nuovo anno che è appena iniziato, Gesù ci invita ad andare a Lui e a vivere quest'anno, vivere questo periodo della nostra vita, vivere il resto della nostra vita in questo perfetto riposo che viene dalla comunione con il nostro Padre Celeste, che viene dal realizzare che siamo nelle mani del nostro Padre. E Gesù dice che nessuno ci potrà rapire dalle mani del Padre. gloria al nome del Signore. Ecco il riposo di Cristo, il riposo di Gesù. Quindi prima di tutto è la rivelazione del Padre ai piccoli fanciuti. Il riposo di Gesù poi è portare il suo gioco. Prendete su voi il mio gioco. Gesù ci invita a prendere il suo gioco. Sappiamo che il gioco era un attrezzo agricolo che univa due bestie da Soma, due buoi, due asini, insomma, per fare un lavoro, per arare il terreno. Le parole di Gesù possono significare il gioco che Lui ci offre oppure il gioco che Lui stesso porta. e a me piace leggerlo in questo senso. Prendere su di noi il gioco di Gesù. Essere aggiogati, essere legati insieme a Gesù per fare un'opera con Lui. Perché Lui ci chiama ad essere Suoi collaboratori. Ci chiama a fare un lavoro insieme. E quando noi prendiamo volontariamente su di noi questo gioco di Gesù, cominciamo a camminare con Gesù, scopriamo che il suo gioco è dolce. Il suo carico è leggero. Perché Gesù lo porta insieme a noi e lo porta per noi. Benedetto il nome del Signore. Il riposo di Gesù e poi imparare da Lui. Imparate da me. Perché io sono mansueto e umile di cuore. Mentre portiamo questo gioco insieme a Gesù, mentre camminiamo con Lui, cominciamo a somigliare a Gesù. E man mano che camminiamo, man mano che facciamo quest'opera giorno per giorno, insieme a Gesù, noi somigliamo sempre di più al nostro Signore. E il riposo ci viene proprio da questo. Ci viene dal fatto che impariamo la sua mansuetudine, la sua umiltà. Molti problemi nella nostra vita ci vengono proprio perché non siamo mansueti, non siamo umili di cuore. Pensate che è l'unico passo della scrittura dove Gesù parla del suo cuore. Il suo cuore è mansueto e umile. E il nostro riposo viene dall'essere come Gesù, dall'imparare la mansuetudine che è frutto dello Spirito Santo, da imparare l'umiltà. Gesù ha imparato l'umiltà dalle cose che ha sofferto. Lui, il Signore della gloria che si è fatto uomo, è venuto su questa terra per portarci la salvezza. E mentre camminiamo con Lui, se in quest'anno cammineremo giorno per giorno con Gesù, imparando da Lui la sua mansuetudine, la sua umiltà, noi troveremo riposo alle anime nostre. Gloria al nome del Signore. Il riposo di Gesù ci viene poi dal vivere un giorno alla volta. Gesù ci promette il suo aiuto per portare i pesi della vita, ma un giorno alla volta. dice Gesù in Matteo capitolo 6 verso 34 non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso, basta a ciascun giorno il suo affanno. e il Salmo 68 verso 19 dice sia benedetto il Signore, giorno per giorno porta per noi il nostro peso, il Dio della nostra salvezza. E poi c'è una pausa, una pausa per riflettere. O come dice la riveduta, sia benedetto l'Eterno, giorno per giorno porta per noi il nostro peso, Egli che è l'Iddio della nostra salvezza. Giorno per giorno il Signore porta per noi il nostro peso. Ecco il riposo di Gesù. Però allora dobbiamo fare una riflessione. E cioè che se noi ci carichiamo dei pesi del domani, allora vuol dire che questi pesi dovremmo portarli da soli. Perché Gesù, lo abbiamo letto, porta per noi il peso giorno per giorno. Cioè un giorno alla volta. E come abbiamo visto, Gesù ci dice di non essere in ansia per il domani. Basta a ciascun giorno il suo affanno. Perciò dobbiamo scegliere cosa vogliamo fare. o portare i pesi giorno per giorno e lasciarli a Gesù e Lui li porterà per noi o caricarci dei pesi del domani, del futuro e allora li dovremmo portare da soli. E questi pesi ci schiacceranno. Ecco l'ansia, ecco queste preoccupazioni che guastano la nostra vita, che ci portano alla depressione, all'esaurimento molto spesso. Impariamo ad andare a Gesù giorno per giorno. A lasciare a Lui i nostri pesi e noi scopriremo che Lui li porterà per noi e con noi. l'anno che è appena cominciato sarà completamente diverso da quello che è passato, da quelli che sono passati. soltanto se impareremo a viverlo giorno per giorno. Tenendo la mano del nostro Signore come un bambino tiene la mano della mamma o del papà. Perché ricordiamo le parole di Gesù, ricordiamo l'esclamazione di Gesù, l'esultanza di Gesù perché il Padre ha nascosto queste cose a chi si sente saggio, intelligente, ma le ha rivelate e continua a rivelarle a chi si riconosce come un piccolo fanciullo. Giorno per giorno. Diceva poi a tutti Gesù se uno vuol venire dietro a me rinunci a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segue. Luca 11 versetto 3 Dacci ogni giorno o di giorno in giorno il nostro pane quotidiano. Così ci ha insegnato a pregare Gesù, vero? Ogni giorno, giorno per giorno. Ci ha perfino insegnato a pregare così. Ricordiamoci che nei 40 anni in cui il Signore ha condotto il popolo di Israele nel deserto gli ha mandato la manna ogni giorno. È vero? Ogni giorno. Non potevano raccoglierne di più, conservarla per il giorno dopo perché altrimenti si guastava, faceva i vermi soltanto il venerdì ne dovevano raccogliere un quantitativo doppio perché il sabato era il giorno del riposo e non dovevano prendere, non l'avrebbero trovato. Ogni giorno per 40 anni Dio ha provveduto per il suo popolo. Dio provvederà per noi in questo anno, giorno dopo giorno. È scritto in Atti 2,47 lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che venivano salvati. Gloria al nome del Signore del Signore. Ecco perché il salmista dice nel Salmo 90 versetto 12 insegnaci dunque a contare bene i nostri giorni Signore per acquistare un cuore saggio. saggio giorno per giorno in questo nuovo anno se come bambini ci avvicineremo a Lui andremo a Gesù Lui ci rivelerà il Padre ci farà conoscere il Padre giorno per giorno se andremo a Gesù potremo prendere il suo gioco potremo lavorare con Lui potremo camminare con Lui potremo somigliare a Lui giorno dopo giorno potremo scoprire che se non ci carichiamo di quei pesi che il Signore non vuole che ci carichiamo noi scopriremo il suo aiuto il suo sostegno scopriremo che Gesù porterà per noi i nostri pesi perché Lui è il Dio della nostra salvezza e io voglio camminare quest'anno tenendo per mano Gesù io voglio portare i miei pesi ai piedi di Gesù ogni giorno voglio iniziare ogni giorno di questo 2021 andando a Gesù e dicendo Signore il peso di questa giornata le sfide di questa giornata io le metto ai Tuoi piedi le necessità gli imprevisti li metto ai Tuoi piedi Signore prendili nella Tua mano portali Tu per me e sono certo perché Gesù l'ha promesso che scoprirò che Lui porterà per me questi pesi e li porterà anche per te per la Tua famiglia per i Tuoi cari impariamo impariamo a contare bene i nostri giorni guardiamo il calendario guardiamo il giorno il giorno di oggi e mettiamo i pesi di oggi ai piedi di Gesù è così ogni giorno e noi troveremo ecco perché Gesù dice voi troverete di riposo noi troveremo ogni giorno il riposo per le anime nostre Amen facciamo tesoro della parola di Dio riteniamola nel nostro cuore impariamo da Gesù e noi vedremo cose gloriosi in quest'anno potremo camminare sulle acque potremo avere la vittoria per mezzo di Cristo Gesù il nostro Salvatore lo vogliamo ringraziare vi alzate con me in piedi diamo gloria al Signore ringraziamolo di cuore Alleluia sia benedetto il Signore porta per noi il nostro peso Alleluia 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 Grazie Signore Alleluia 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 Gloria al Tuo nome Alleluia 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 Gloria a Gesù cantiamo quell'inno che dice più presso a Te Signore venire voglio il 352 oh è il grido del mio cuore Signore voglio stare vicino a Te Alleluia voglio camminare ogni giorno con Te Signore Alleluia prendi la mia mano Signore Alleluia a Gesù a Gesù a Gesù Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.